Qual è il legame tra fumo e cancro al seno? Il possibile legame tra fumo e cancro al seno è un argomento molto dibattuto e controverso, ma all'inizio del 2011 non vi sono prove definitive che dimostrino una connessione tra fumo e cancro al seno. Mentre è stato dimostrato che il fumo aumenta le probabilità di altri tipi di cancro, in particolare di cancro della bocca e del polmone, ci sono poche prove per mostrare una maggiore probabilità di sviluppare il cancro al seno a causa del fumo. Vi sono tuttavia alcune prove che indicano una possibile connessione tra il fumo e il cancro al seno specificamente correlate all'inalazione del fumo passivo. Una grande quantità di ricerche e studi sono andati alla ricerca di eventuali connessioni tra il fumo e il cancro al seno, al fine di comprendere meglio come viene causato il cancro. All'inizio del 2011, non esiste una prova definitiva che mostri una connessione tra il fumo e il cancro al seno, anche se questo causato controversie tra alcuni professionisti del settore medico. Mentre ci sono una serie di rischi per la salute chiaramente evidenti coinvolti con prodotti fumatori con nicotina, la ricerca non ha dimostrato che un aumento del rischio di sviluppare il cancro al seno ha uno di loro. Una scoperta interessante riguardo a una possibile connessione tra fumo e cancro al seno è la prova che potrebbe indicare un aumento del rischio di cancro al seno a causa dell'esposizione al fumo passivo. Ci sono prove che indicano che le tossine nel fumo di sigaretta passano nelle cellule mammarie di una donna, in base alla ricerca di sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta nel latte materno. La ricerca ha anche scoperto che le sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta possono causare il cancro al seno in alcuni animali da test. Anche se questa evidenza non collega direttamente il fumo e il cancro al seno per gli esseri umani, sembra esserci un aumento del rischio dovuto all'esposizione al fumo passivo. Questo è ancora oggetto di ricerca, anche se sembra che il corpo di una persona assorba e tratti le tossine presenti nel fumo di sigaretta in modo diverso a seconda che una persona inali direttamente il fumo di una sigaretta o la respiri di seconda mano. La ricerca su questa connessione, e ogni possibile causalità implicata, continua, ma le persone dovrebbero generalmente evitare il fumo passivo quando possibile. Ci sono una serie di altre attività e fattori incontrollabili che possono aumentare le possibilità di sviluppare il cancro al seno, anche se il fumo non lo fa necessariamente. La genetica è uno dei principali fattori nello sviluppo del cancro al seno e il rischio di sviluppare il cancro al seno è notevolmente aumentato nelle donne con un parente stretto che ha avuto un cancro al seno. Invecchiare tende anche ad aumentare le probabilità che una persona, di solito una donna, sviluppando un cancro al seno e frequenti screening per il cancro al seno siano consigliati per le donne che invecchiano.